Oltre a 15.000 persone hanno partecipato il 5 marzo a Torino a Just Women I.M., corsa non competitiva al sostegno della ricerca sul cancro, organizzata dal sistema universitario torinese e giunta alla sua quarta edizione. Oltre 80.000 persone hanno visitato gli stand collegati alla manifestazione in Piazza San Carlo. Il Consiglio regionale era presente con il presidente Mauro Laus, la vicepresidente Daniela Ruffino e una delegazione di consiglieri e dipendenti. È una manifestazione molto importante, Just Women I.M. L'obiettivo di questa manifestazione, grazie all'impegno del CUS di Cardo Delicio, dell'università e del Politecnico, è quello di, è finalizzato a implementare le buone pratiche, buone pratiche attività fisica, attenzione alimentare e soprattutto la ricerca. Nell'occasione non possiamo dimenticare che gli spazi nella società non vanno lasciati mai vuoti e penso allo spazio della sopraffazione, alla violenza, alla violenza di genere. In questa piazza ci sono tante donne, ci sono tanti uomini presenti e tanti quelli assenti che sono contro ogni forma di violenza e noi oggi siamo qui per dirlo ad alta voce.